good morning si qui sono le 11 11 esattamente e diciamo sì come dico in questi casi una mattinata prestissima mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente david lynch it's march 28 2022 and it's monday in naples 59 farinatran 15 tines e su senis minsa detta is it day really 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 soft track in this day in this period even if not proprio quella giornata vera proprio 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 soft ma comunque soft e comunque leggera sono comunque grati primaverili sì per quanto già nel video sui pensieri non so se lo faccio ma nel caso è sempre separato da questo quindi occhio anyway i see and you all just see from the window i think that is after noon the temperature potrebbe scendere qualche grado ma non sono sicuro penso si mantenga on the same level but vedremo non siamo rimani su questo but there is important thing in negative point is that in this atmosphere we surely aren't going to be enjoying those beautiful blue sky and golden sunshine a meno salvo miracoli vedremo io non credo che comunque ci sarà cambierà meglio il tempo ma vedremo per cui per cui per cui said this so from the mythical window with the colored curtain certo non sublime ma nemmeno bruttissima comunque ringraziamo sempre l'inquadratura e la luce oltre colori stessi della tenna che la rendono un po più bella and it's green roller shooter behind me on the top not visible the new factor in the shot and finally from the mythical keyboard the amadi gx 640 ipg 625 e vabbè great day in more people follow the channel the reports un saluto davvero a tutti ci vediamo al videotoods nel caso lo faccio o domani ciao ciao ciao